Salve a tutti ragazzi, benvenuti con questo ruido, io sono l'ambero, ci sento un reto qui su Resident Evil 2 Sempre con la nostra cara Claire e questa signorina molto sex che sta facendo il cosplay di Widowmaker In questo momento siamo all'orfanotrofeo, dato che stavamo seguendo Sherry e il suo rapitore che erano qui Dato che il bro voleva il ciondolo di Claire Non so che cosa serve, che importanza abbia Però dalla visuale di Sherry con cui abbiamo giocato abbiamo scoperto che William Birkins è arrivato fin qui, ha ucciso, cioè ha infettato malamente il cavo della polizia Che era anche un rapitore, è secondo me un pedofilo E però si sa che cosa sia successo a Sherry, però magari scendendo qui lo scopriremo Sherry, Sherry dove sei? La devo trovare, raggiungere e salvare Da William Birkins che io credo che sia suo padre Oh, salve, salve Arrivo subito Eh, guarda, guarda com'è, adesso mi spunta dietro il mostro Eh, vabbè, parliamo, parliamo, dai Possiamo Oddio Che ci fa lui qui? Mr. X, Mr. X Corri, Sherry, ti son dietro Anche di te, anche di te Sei scema, non lo sai Corri, ti sto per superare Ma sbrigati tu Che son dietro di te, non ti posso superare Questo è il problema, ti posso superare Ciao, Sherry Figa 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 Oh, oh, leva quelle mani Leva Guarda quanto, quanto, quante rughe Quante rughe Oh, grande William Ah, vedi che era suo padre Aspetta, sta prendendo Parte del DNA Di 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 Mr. X E questo è quello che è appena successo Ma sta cercando di difendere la figlia Di raggiungerla per farle del male Oh, che cosa Inizio Inizio Importante Ti sento, ti sento Il problema è che Ma non era sopra di noi Come fa a non essere già con noi Claire La bambina si starà chiedendo Ma perché sta stronza C'ha gli occhi aperti Ma non risponde Svegliati Ah, da No, Annette Ciao, Annette Eh, che vuoi che faccio Easy E allora Che si fa? Mi aiuta signora Annette? Dov'è, Sherry? Sherry Sherry sta bene Ah, l'hai presa tu L'hai chiusa in gabbia È davvero una forza incredibile Hai riempito di acqua santa tuo marito Chiamiamola acqua santa Chi è lei? Io sono Clara Non l'avevo previsto La distruzione del luogo Dov'è, Sherry? Ehi Cosa? Dov'è? Annette Dimmi Che è successo? Risposto alla domanda di prima C'è il lag Hai il window explorer in testa, amica mia Mi aiuta a trovare Sherry Sembra si evolva più velocemente del previsto Gli è appena cresciuta una seconda testa Vedo un po' lei Adesso dove va? Senti Non ho tempo per rispondere alle tue domande È tutto sotto controllo Sì, sì Io devo trovare Sherry Mia figlia non è un tuo problema Oh, andava a essere sore Andava a essere tua Anzi Adesso ti vengo a picchiare Aspetta, non la posso seguire No, sì, la posso seguire Però posso anche buttarmi di sotto Sono nelle Oh, siamo tornati nelle fogne Capisco Tra l'altro sono Questi proiettili che ho appena trovato Sono una pistola che non ho Quindi per ora li poso Eh, si è chiusa dietro Maledetta Allora Mi tocca andare nelle profondità della terra Nelle fogne in realtà Eh, let's go Che non ci dovrebbe essere nessuno a fermarmi Salve Sherry Dove sei? Non si torna manco su Quindi stiamo pronti con Armi in mano Ho fatto qualche combattimento Nello scorso episodio Adesso c'ho pure pochi proiettili No So dove sono Ora sono nella merda Fino al tonno Un letteralmente Ah 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 Comunque era fino alle gambe E vediamo E dai, dobbiamo ritrovare Il La manovella Che bello, dai E quindi Prende Si ritorna a quello che avevo esplorato L'unica parte nuova era L'orfanotrofio E allora Proseguiamo E mi sa che la nuova arma Sarà al posto del Lanciafiamme Di Leon Eccomi qui Qua c'è la Funicolare Si Però noi non c'abbiamo il braccialetto Quindi Quindi Eh ma sono appena arrivato Brutto scim Ah Ah ragazzi Ma io sto Lo 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 Adesso Me lo ricordavo A memoria Si si Per fortuna Avendo giocato con Leon Molte cose me le ricordo A memoria Adesso Leon andava qui sotto E poi Arriviamo alla zona dove servivano Gli scacchi Giusto? O magari stavolta non servono Sento Sherry Sento Sherry Mi sembra Sherry Te l'ho detto Non posso andartene Che non finisco il mio lavoro Ma Sherry Perché non sei rimasta a casa? Oh Ma que Ma lì c'era Adam Ma Come Vabbè Avevo paura Quei mostri erano ovunque Bisogna chiamare la polizia Come ti abbiamo insegnato L'ho fatto Ma non è arrivato Eh sono tutti morti E se non rispondevi al telefono Quindi Sherry Io non ho tempo per questo Lei è una madre ingrata È difficile persino definire la madre Non mi dire che è ferita come Ada Non so Magari è semplicemente esausta Dopo tutto quello che ha vissuto Quindi Devo risbloccarmi tutto con gli scacchi Ti odio Eh vabbè Vabbè Trovo gli spinotti elettrici Si parte Che bello Quindi abbasso questo Si attiva il ponte Lascio lo zombie che si Rianima Vediamo se lo riesco Ad uccidere già da qui Buono Uno due Esploso la testa Dalla cassaforte Vediamo che il codice È qui accanto Due dodici Otto Ecco che lo inserisco subito E qui c'era un potenziamento Per un'arma Si Per Per un'altra Quindi devo trovare Veramente un'altra pistola Oppure Oppure il mio revolver No Devo trovare proprio un'altra pistola Ok però Appunto Prima prendiamo L'attrezzo La manovella Una delle strade Tra l'altro Era rotta Con le on L'altra era buona Non è che magari adesso Con le è il contrario Era questa qui forse Con la rotta Bah Ve vedremo in casa Aspetta Sono sopra la zona Degli spinotti Beh si Ah è giusto La zona rotta era qui sopra Le chiavi Grazie per le chiavi C'ho l'inventario pieno Allora Torno qui Dalle chiavi dopo Perché intanto Quindi posso sbloccare la strada E magari qualche bel bostro Mucio piena Altra granata Se qui adesso le utilizziamo Con i mostri Vediamo se spunta subito Dai Eh si E' sempre lo stesso Si è sempre lo stesso Equipaggia le granate E ne lanci subito una Faccia Lanciamo quella incendiaria E se non muore adesso Per carità muori Grazie Alquanto semplice Andiamo ad utilizzare L'utensile Qui Dai Si dice utensile Utensile Non me lo ricordo E non lo ricorderò Qui salgo in una zona buona Non mi ricordo Se non sbaglio Quella Dove Eh si va bene Innanzitutto qui Però poi torno Nella zona dove servirebbe La chiave di sotto Però qui c'è il borsello Quindi il borsello Prima di tutto Così posso prendere Quella chiave Allora E qui mi sblocco la strada Che però non mi porta Direttamente dove devo andare Ma bensì Qui in cima Quindi adesso Dato che c'ho poco spazio Nell'inventario Usiamo tutti i miei proiettili Così me lo libero Ecco Adesso dovrebbero essere Tutti morti Forse Lui è in fiamme Premorente Grande Adesso che dovrebbero Essere tutti morti Vado a prendere le chiave Eccole E torniamo indietro Comunque rendiamoci tutti quanti Conto che Claire Non ha dovuto affrontare Un mega coccodrillo Che le voleva mangiare Il culo Comunque Prima zona che posso sbloccare Che è forse questa Qui non l'avevo sbloccata Con le on Andiamo Potevo trovare roba buona Tipo Roba per proiettili Dai combiniamo Altri munizioni Altre munizioni Acide Nient'altro Era proprio una zona Per potenziarci Che non ho vista con le on Questa Preso tutto lì Mi prendo lo Spinotto Iai E posso aprire Questa zona Qui In teoria da qui Potrei tornare Fino su Nella centrale di polizia Ma non credo che Io Deva tornare su Dato che ho già fatto Tutto di sotto Però posso sbloccare la strada Quindi faccio Andata e fuga Strada sbloccata Tra l'altro Mi sa che qua Io ho mancato La granata Ecco Ho fatto benissimo E torniamo giù Ah mi sa che è pure cambiato Il puzzle La torre È di fianco al cavallo Ma non di fronte Alla regina Il re non è di fianco Alla regina Ma di fronte Al cavallo In fondo il cavallo Non è dove Dovrebbe essere Quindi si è proprio Tutto cambiato Lo risolviamo dopo Sto puzzle Eccomi Eccomi tornato Come un bravo Pampino Mi infilo Nello schifo Siiii Stiamo pronti Ai mostri Ok Questo posto Ok Tu dici Ecco lì Che esce Il chest Busters Credo che siano Tipo dei Cuccioli Di stitizi Più grossi Che schifo Sono ovunque Eh Non è che Gli riesco a iniziare A sparare da qui Eh Perché lo vedo Là in fondo Figa Mi aspetta Ah forse lui Era per l'animazione Quindi ho sprecato Proiettili Oh però se Quello lì Non era per l'animazione Figa E infatti Porco due Sto qui lo ammazzo E basta Non ti fermare Continuo a sparare Si stia lontano da me Signore Ecco E' andato Sono morto Levati Levati Io c'ho il mio coltellino Però c'ho il mio coltellino No c'ho direttamente La granata Giusto Se magni quella Ser Buono Adesso Veloce 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 Tu levati Schifo Tanto poi ti ammazzo Devo correre E scappare da loro Volevi Volevi Levati Schifo Vi colpisco entrambi adesso Con l'acqua santa Ecco E scappo qui dentro Un po' di proiettili Me li devo conservare Siamo sinceri Ah io Ah lui si reanimava Vero Inizio a sparargli d'ora Un po' di acqua santa Così mi levo la rottura di balle Allora Qui c'era tutto il puzzle E lì c'è Ma non è una pistola quella Devo prendere sta roba Da fuori Grande regina E metterla Qui Come una vera regina Il posto che si merita E puoi ammazzare lui Allora Allora Ecco qui il nostro re Come Ma dov'era lui Non c'era lo giuro Corri 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 Metti qui subito il re Il nostro re Magnanimo E prendimi L'arma Fucile a scarica elettrica Fammelo provare Dai Oh Salve sir Voglio provare con lei Wow Ah e si carica Pian piano E poi fa una Ok Ci vuole un po' prima che l'attacco arrivi Quello potente E credo che faccia tanto male Ma come fai a essere ancora vivo dopo quello Che schifo che fai Dai Ne tieni un'altra carica Adesso Lo tengo Sarà difficile usare questo quando ci saranno più nemici E poi boom Ok dovrebbe bastare Grasci Anche il re E Let's go Adesso prendiamo tutto ciò che mi serve E vediamo di lavorare lì Raga aspettate un attimo Ma io Io ho sostituito Una pistola per questa qui 9 mm Sono entrambi da 9 mm Era la mia arma principale questa qui Ed è anche quella che si prende i I proiettili Però a quanto pare questa qui può anche usare i proiettili di calibro 357 Allora la situazione cambia Devo usare entrambe le armi La principale non la uso più per quelli da 9 mm Ma soltanto per quelli da 357 Ecco perché ho trovato dei potenziamenti per armi che non avevo Allora sì posso potenziare quest'arma Usarla per l'altro tipo di proiettili Ok Ok Però adesso Vediamo di capire come fare questo puzzle Allora innanzitutto il cavallo non è dove dovrebbe essere Quindi lo togliamo pure Però il pedone che c'è qui sì E credo di aver già capito Il re e la regina non possono andare nello stesso luogo Quindi di sicuro qui non ci vanno re e regina E la torre è di fianco al cavallo ma non alla regina Quindi mi sa che devo fare una robetta Qui in fondo ci vado a mettere la torre Qui il cavallino in mezzo Il re deve essere dall'altra parte di dov'è la torre Quindi lo mettiamo qui Dato che il re non può stare vicino alla regina Qui ci dovrà andare per forza l'alfiere E non vicino al re la regina Per di qua Ho azzeccato tutto? No Dai dai Ah no aspetta non avevo Mi so dimenticato la parte del Il re è di fronte al cavallo Ok quindi devo scambiare Cavallo e torre Mi ero confuso Credevo che il re fosse di fronte alla torre Facendo così dovrebbe andare tutto bene Eccolo lì Allora possiamo continuare Arrivo Sherry Tieni duro Arrivo Sherry Tieni duro Allora Sherry qui dentro Però mi sa che anche stavolta Non funziona la corrente Eh già Andiamo di nuovo ad affrontare William Dai Cos'era così gentile Ah vero Prima sta roba Gli ultimi tre Buono Mi attacca William Magari stavolta no Per favore Dai per favore Non mi attaccare E te pareva William Ecco che va pure tutto a fuoco Aspetta ma non c'ho proiettili Ah vero Tanto qui non servivano Cioè in realtà potrebbero servire Devo Devo usare i sette proiettili che ho E basta Sono sette più cinque Eh porco due Almeno farmi passare Non mi sembra giusto così Ecco Guarda come ci segue Bravo guaglione Continua a distruggere tutto sul tuo passaggio Come al tuo solito Sei un maledetto E les go les go les go les go les go Clicca i pulsanti tu Bene adesso vediamo di gestirlo un pochettino Qui c'era un coltello Mori per favore Rimani un attimo stordito qui Ti prego Grazie Che vado a cliccare il pulsante Ho un regalino per te Sì ho un regalino per te Dai è Roma Ehi cadi Cadi Subito No Non mi dire È a due fasi Come a due fasi Sei scemo Sei tutto scemo tu Eccolo Dai che sta tornando a terra Premi 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 Ne vuoi ancora Sì ne vuole ancora Ne vuole ancora È un maledetto Ne vuole ancora Sei un ingordo Perverso Di Di Sblep Rimani lì Rimani Sì continua a fare i tuoi urli Grande Oh Sei a tre fasi Mi arrabbio eh Ecco ecco È scivolato È scivolato È scivolato Perché sei così tanto resistente Oh Dai Con leone era caldo subito Che maledetto Dai andiamo Scusami Sherry Ci vorrà un po' di tempo Ma quando mai Tanto Cioè lei sembra un'esperta Rispetto al leone Quando in realtà è una pagliaccia Ma naturalmente Perché leone Le cose non le sapeva Lei sì Perché io le so Comunque Liberiamo Sherry Spero che ci abbia il braccialetto Per andare al laboratorio Sherry La mamma è qui E non solo Non solo Sherry puoi sentirti La mamma è qui Dopo che l'hai chiusa In un figa di monnezzaio eh Sherry Ah tanto è viva Tanto è viva Claire Eh Claire Proprio io Sherry stai bene Oh no è infetta Che stai facendo Provo a salvarla Impossibile Impossibile Il riverbero Mamma 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 Mi hai abbandonato Stai facendo in modo Che una sconosciuta Mi stia salvando Sei scema Riguarda Riguarda milioni di te Sherry Mamma ti vuole bene Addio Addio Vabbè forse Annette Voleva fare in modo che Voleva salvare l'umanità Voleva salvare l'umanità Sherry tranquilla Farò tutto il possibile Possiamo dire che Annette Non è stata egoista Lato positivo L'unico lato positivo Capisco che una madre E perché E' brutto Che una madre Abbandoni la figlia E' brutto Però voleva distruggere il virus G E fermare William Voleva salvare vite Eh già Andiamo Finalmente La funicolare E mo Il braccialetto è richiesto E muore Sherry Ah lei ce l'aveva il braccialetto Sherry ma che mi dici Lei sta citando Aio Let's go Adesso Leone e Ada si sono baciati Per favore non ricreare Che potrebbe essere brutto Immagina se gli esce la roba dal petto Sarebbe bruttissimo E spero che non mi diventi un mostro E mi uccida Bene Andiamo Ma che non ti dimentichi nulla Aspetta Potevo salvare Potevo salvare Comunque dovremmo aver preso tutto Che figo Ti sembra uscire Ti sembra uscire Già ho fatto la battuta di qualcuno Che si lancia al finestrino E mo che battuta faccio E mo che battuta faccio Che esce dalla portiera Oh è diventata Lara Croft Guarda guarda Sta facendo il cosplay di Lara Lei sta facendo il cosplay di un morente Già che è così caldo È di mio fratello Mi ha detto che porta fortuna Il buon Chris Redfield Come avrei fatto senza di te Mi prendi in giro Te la stavi cavando alla grande Poi sono arrivata io a metterti nei guai Tieni questo è tuo Non lo voglio Perché Che dici È bello Il medaglione Me l'ha regalato mamma Per il mio compleanno Reincarnazione Non ho letto tutto Volevo solo che fosse a casa più spesso Stavo a minazze Cato il congiuntivo Deve essere salvata Ma era l'altro L'occhio gli faceva male Perché si teneva quello buono Guarda si tiene quello buono Ehi Sherry Già che è uno e mezzo smonco di occhio Non ti toccare quello buono Che poi si infetta Arrossisce Let's go Non mi dire che mi devo fare Di nuovo tutta la roba Con gli uomini pianta Perché potrei sclerare Soprattutto non ho munizioni incendiarie Cioè non voglio fare di nuovo Avanti indietro Avanti indietro Dai mi serve il tuo bracciale Sherry Altrimenti come ce ne andiamo da qui Eh figa Però in teoria Noi dovremmo aver preso Una strada diversa Ma vero qui c'era la portata Ribla Ah la posso mettere sul letto Quello smerdato Ok 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 E poi proseguire da sola Io vedo munizioni incendiarie Figus Riposati E non in eterno Ok Vediamo Ah Qui dovrei trovare qualcosa Umbrella in manager In response service E questo Non c'è alcun dubbio Ehi Ehi Sherry Devo andare Tu aspettami qui Ok Pro si zutu dai Cioè che cosa può fare Sta bambina rinotta così Ecco braccialetto Ecco braccialetto Dovevo prendere Dovevo prendere Semplicemente il braccialetto Aspetta qui c'era Che cosa era sta roba Comenzatore fucile a scarica elettrica Oh guarda combina Combina benissimo Quindi me li daranno i proiettili Prima o poi Grandi Comunque munizioni incendiare Buon per noi Li utilizzeremo con gli uomini pianta Adesso Torniamo indietro Let's go Eccoci ritornati qui Inserisci qui il braccialetto E mi devo rifare tutto Ragazzi Ci sarà una sofferenza Oh ma guarda Hanno messo direttamente qui Il modulatore di frequenza Ah buona roba Ficcaglielo dentro Prendiamo tutto E scappiamo prima che Lo zombie si Rianimi Ecco Borsello potenziato Nota presa Andiamoci E allora Sblocchiamoci L'aria est Che bello Let's go Rieccomi Che bello Sarà bellissimo Riesplorarsi tutta Sta bellissima zona Ari Eccolo Pianta Google mi ha detto Che è stato schiacciato Dalle piante Ricordiamolo Terribile Adesso è un po' brutto Ma Così mi sembra un po' esagerato Già devo passare prima Da qui dove ci sono le piante Quindi Mettiamo No Corro anzi Non li combatto Nemmeno Sti cosi qui Corro e basta Così non mi rompono Le basso No lui si Lui si Quindi gli devo dare fuoco Ma gli altri no Eccolo Aspetta non devo andare a fuoco Pure io Grazie Ciao Spero di ricordarmi I codici Uno me lo ricordo Era Figa L'hanno cambiato Siete scemi Devo rifarmi tutto Ah che palle E va bene Entriamo nella serra Che zona bella La serra Ricarica Così Non gli darai degli epiteti brutti Ma lo ammazzi e basta Tra l'altro Da una delle challenge Del gioco Ho scoperto che si possono ammazzare Anche in maniera differente Che con il fuoco Passo su di lui adesso Me lo ricorderò Oppure provo ad ammazzarlo Nella maniera in cui diceva il gioco Dovevo beccare tutte quelle sue palle gialle Provo a farlo E vediamo che succede Eccola lì Muore definitivamente No mi sa che rimane in vita Però almeno per un po' È fuori gioco Dagli Roma Una parte sbloccata Ah tra l'altro Prendiamo anche questo La boccetta Contenitori Si rigenerano i loro punti Giallognoli Ecco perché non muoiono mai Vediamo Qui c'era il trofeo E non è più qui Bella merda Almeno posso interagire subito con questo E ripristiniamo la corrente della zona Dagli Vado a cercare nell'avrestanza adesso E vediamo Spuntano gli strons qui No prima si rianimano loro Posso fare una roba intelligente Li ammazzo tutti e tre con una granata Ezz E qui spuntano gli altri Due Si che spuntano Aiuto Uh per poco Mori per favore Qua Ciro Ci sono tutti E posso entrare qui Spero di trovare il trofeo qua dentro Perché altrimenti non so dove andrà Eccolo qua Codice E vedi è diverso Adesso torniamo su Prendiamo tutto ciò che ci serve Torniamo giù E abbiamo fatto Eccolo qui Dai Andiamo a prenderci Il composto Allo Come sta Smetti il contenitore E devo rifarmi il puzzle Modalità manuale attivata E' diverso rispetto all'altra volta Vero E si è diverso Porco due Sium ce l'ho fatto Ci ho messo vent'anni Però ce l'ho fatto Iaix Dai Adesso devo tornare di sotto Si ficca dentro Su via Su via Ficca dentro Adesso qui lavora E schifo tutto Grazie di grazia per tutto quanto E torno su Eccomi tornato Dai Come al solito Erbicina Quello che abbiamo già fatto Siamo vicinissimi di nuovo Alla conclusione del gioco E certo Dai Dai Quindi adesso devo tornare dentro Prendere quello Evitare le piante Sarà un casino un'altra volta Però stavolta non posso morire Non posso neanche rischiare di morire Ecco tanto Sono messo così bene Ed ecco che torna Mr. X Eh si Prendi tutto Fondi col bracciale Corri Adesso non so in quale direzione vogliamo correre Però dobbiamo correre Non c'è Mr. X Oddio Quasi Mi sembra quasi strano Lui si rianima Ma tanto scappo Ok Ho fatto bene a prendere questa direzione Lui E' troppo lento per me E via 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 Ecco Non c'è Mr. X Incredibile Sono fuggito benissimo Non c'era nemmeno Mr. X Quindi sto bene Magari è stato ucciso Nella storia di Claire Da sopra Da William Di sopra Quindi Buono E adesso Abbiamo praticamente Concluso tutto quanto Dobbiamo probabilmente Probabilmente Ricombattere contro William E allora Qui c'è la zona dove Leone ha preso Il virus G Ma magari noi prendiamo la cura Per Claire Quindi prendo il virus Prendo Qualcosa Diavolo Ah non prendo Perché non c'ho nulla Ah ma il medaglione Il medaglione Il medaglione Vedi che serviva Ok Ma quindi non prendiamo il virus G Aspetta Mi sa che lei ha aperto la roba Per far prendere a Leon Il virus G Che è lì Lì davanti Però a lei non interessa Noi abbiamo la gente Ah vedi che figata Quindi andiamo Portiamo tutto quanto a Sherry E let's go Sì Giustamente Però noi possiamo scappare Scusami Non c'è bisogno che io Cada di sotto Tra l'altro ancora La versione livello 2 Non livello 3 Eh l'acqua santa Di nuovo Pure noi Gliela possiamo tirare Vai Muore subito Stavolta E ce ne andiamo No perché vi ho avvicinato Cos'è questo mostro E' mio marito Ecco Wow wow Cosa che ho già visto Wow wow Sì è la mia creatura Ok forse non l'avevo vista Non me la ricordavo Stavate La tua creatura Alla tua creatura Non importa Che tu sia Perché stai ben mori Stai ben mori Eh William Io mi spiegherei A sparargli in testa Concludi le sue sofferenze Per favore Avrei dovuto ucciderlo subito Non so perché Non l'ho fatto Era tuo marito In realtà Tenevamo più al lavoro Che al matrimonio Ma allora Sherry Raccoon City veniva distrutta E tu l'hai lasciata sola Non potevo lasciare Che mia figlia Crescesse in un mondo Con il virus Ma questo non c'è Per la lasciata Lei si sta Lei stava continuando A parlare Mentre c'era Quella mano Unta che prendeva Unta che prendeva Fighissimo Ed ecco che è arrivato Alla fase 3 Giusto Per favore Per favore no Scappate basta Non lo voglio ricombattere Ma pure tu aiuta C'hai 25 armi Ne hai pure una qui dietro Che è enorme Anche se non ha proiettili Ma almeno fa figo Ed eccolo lì Bello mutato Mi spiace Esatto William muori Muori William muori Lo buttiamo di sotto Senza che Lo combattiamo No 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 Combattilo da qui sopra Combattilo da qui sopra Te ne prego Ma tu sei scema Tu sei scema Ascoltami Lui non deve sopravvivere Fidami Con me Claire si tutti scema Porca vacca E inizia col fuoco E poi qualcos'altro L'altra arma Ecco guarda guarda Stiamo già per iniziare male No porco due Prendi l'arma giusta Che dobbiamo sparare A quei suoi occhetti Di merda Non mi becchi zio Non mi becchi Prima gli occhetti Ok gli ho tolto un occhio Gli ho tolto un occhio Questo qui mi darà abbastanza tempo Per correre Vabbè un altro po' di fuoco Che ne dici Ce ne ho un altro per te Vai a fiamme Aia Ecco Altro occhio preso Mo manca quello per la schiena Ma devo aspettare che provi a prendere qualcosa Per quello Eccolo Eccolo Boom Preso Ricarica questo con le Ecco quello in l'acqua santa E prendi gli occhietti davanti Ancora 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 Non ti devi fermare Ah per poco Altra acqua santa All'occhietto dietro Dai Guarda quanta acqua santa Mi stai facendo usare Dai Un altro colpo Credo che quell'occhietto esplode Ancora uno No è esploso È esploso È esploso Adesso gli rispuntano gli occhi davanti Però utilizzo la pistola potenziata Per colpirli E non basta Acqua santa bro Ne ho altri due colpi Sei quasi morto Grande Che perde tempo per lanciare roba Aghi elettrici Agli occhi però Agli occhi 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 C'ho un altro proiettile Bastava Ti ho abbattuto Ti ho abbattuto di nuovo Mi ricolleziono tutto Come avevo fatto con Perché non so se mi mettono di nuovo Mister X O un'altra boss battle Quindi prendiamo tutto Addio William Ciao ci vediamo Quindi effettivamente adesso si torna La sherry Qua non crolla tutto E non posso scappare Ehi là bella gente Si è addormentato Oh Gli dovevi sministrare la roba Non addormentarti Scema Guarda Lei Si è curata E sua madre Sua madre non è manco tornata ad aiutarmi Mi ha lasciato lì a morire Pure lei è infetta Un cigareto Una merda ma Sto bene Invece ti senti male Infarto momento Infarto momento Devo vedere lo schermo Cos'è qui? L'udopatia Ho vinto il suo perenalotto E tutti gli altri? Non mi toccare Sei sudice Ah è ferita Stai morendo Come per Ada Siamo pieni di cure Però non gliele diamo Perché ci fa schifo Me la caverò Non se la cavo Si è peggio il livello 4 Me ne va Si 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 Scusami Per tutto quanto La tua vita è più importante Non possiamo lasciarla qui Sta bambina traumatizzata a vita Dai Perché se non c'è un bambino traumatizzato Per videogioco Non va bene Oh porca vacca Leon E' stato Leon Quindi qui Leon Non si è Non ha dovuto affrontare Quella merda Rendiamocene conto Ma quanto è sculato Questo Leon Porco 2 E in quell'originale Non era Claire Che si doveva affrontare Tutto sto schifo Che è sculata Quella Claire Ma non potevo essere io Rip E' morta Guarda Sherry devi salutare la mamma Devi salutare la mamma Ciao ciao mamma Ci vediamo dopo Ti prego Sherry Ascolta Ti voleva bene Ma ora dobbiamo andare Forza Dai Dai Sherry Pensa alla Roma Così puoi andare avanti Il bacio al cadavere però Mi Sono Porta fortuna la giacca Giusto Sì sì Mi ha appena portato la madre davanti Però sono fortunata Ad avere te Claire Sì Ok Dai Sì sì Capito Capito Sare più veloce Corri bambina Veloci Dai Tra l'altro non abbiamo usato il braccialetto Si è abbassato in automatico Quindi a che serviva in realtà Nulla Dai dai È uno stato sociale È un costrutto sociale Il braccialetto in realtà Immaginate vediamo adesso Ad accadere Sarebbe bellissimo Anch'io sì Mi sono dovuto riaffrontare gli stessi boss Due volte Te ne ho mai di conto Ecco Qui era dove era Leon Ma sta oltre a Leon Sarà dove era prima Claire Perché si sono invertiti Oddio cure Il gioco non è finito Andiamo Sherry Corri 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 Che senza di te poi manco me ne posso andare Speriamo che di non trovare troppo Troppo schifo Dato che non ho più proiettili di nulla Ed ecco che sono ripartiti Il timer è ripartito Porco due Corri sì Perché io sti così qua non li affronto Ovviamente La porta è bloccata E te pare Aspetta Che fai Forse posso aprirla dall'altra parte Ma te sei scema Sbrigati però Oh cavolo Non mi dire che devo affrontare roba Porco due no Eh sì Devo affrontare roba Mentre aspetta che Sherry Apra E tra l'altro non c'è roba Incendiaria Quindi lo devo tenere a bada così Lo mantengo indietro almeno Ci provo Ucciso in teoria Ok è entrata È entrata È entrata Era un avventuriero Finché una calera non ti ha sparato sul ginocchio Grande Zia andiamo Let's go Sherry Oh qui è dove stava cadendo Ce la fai Cioè sì Continua a correre Dai Oddio il treno Il treno Grande Però ci sono Mi hanno dato altre cure Non va bene la cosa Credo di dover andare qui dentro Per attivare il treno Dai Dai Oh 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 Come Aspetta Eh prenditi la minigun Che figa mi significa una minigun Equipaggia Perché la voglio Aspetta devo trovare la roba da mettere qui E mo dov'è Forse sul treno Vediamo Controlliamo Eh capito Ecco infatti Era sul treno Maledetto Preso Che cosa fai Devo far partire il treno Tu non muoverti da qui Ok Va bene Non mi muovo da qui Brava Sherry Brava Perché ho paura che potrei Dover fare un'altra boss battle Poi fuori dal treno Sarebbe bruttissimo Metti sta roba qui E let's go Giusto? Oh bella bella sta parte Ah quindi adesso parlo con Leon Che è sceso adesso Lui Cos Cos Leon Cos Che cosa fai Leon Non si sente C'è silenzio Eh lo sa Lo sa C'è una via d'uscita Credo Ce la possiamo fare Dove sei ora Claire Ci sei ancora Leon Scusa non ti sento Ma l'hai sentito L'hai sentito Tu non preoccuparti per me Mettiti in salvo Ecco Leon 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 Vabbè tanto si salva Anzi lo salviamo noi col treno Quindi easy Via 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 Aspetta come salgo sul treno Mi ha tolto le scalini Devo essere il conducente Non mi è mollato è qui Aspetta sta scendendo E non sono solo Come al solito però c'ho una minigun stavolta Ho fermato In un momento che non mi è piaciuto Che figa è sta roba Pesso di merda è William vero? È William è quello stronzo Ma perché non muori? Perché non muori? William devi morire I tuoi occhi merdosi Ma te li faccio esplodere io Con i miei 400 colpi di minigun Oddio mio Ma te devi sta un po' calmo William caro Dove merda sta andando poi? Oh scendi giù Vabbè Hai ritornato sul treno Povera pampina Sarà tutta spaventata Porco il porco Questo combattimento è indietreggia e spara Indietreggia e spara con la minigun Tutto così Spero Dai torna su magari Ecco Ho altri 85 proiettili Adesso risalta Spero non su di me Ma te sei scemo Veramente su di me stava facendo sto idiota Devi morire Ho finito i proiettili Ti sei beccato 500 proiettili di Di minigun E sei ancora vivo Prenditi pure sta granata Addio mio Ok la granata ha fatto un grande effetto Ha perso tutti gli occhi Però gli stanno già ricrescendo E' morto? Misalino Ok Mancavo un proiettile Sconfitto di nuovo Per favore non tornare mai più Ok sta esplodendo Bene Se torna l'altra volta Mentre scappo col treno Significa che qua c'è qualcosa che non va Eh? Cioè non possono morire In pratica Eccoci E' un casino E' la madonna Tutto ok Tutto ok Stavo cagando Stavo cagando La mia cagata media Fa quel rumore Oh le sgo Le sgo Le sgo Le sgo Bene Lì è dove si appoggia Leon E quindi Ce ne possiamo andare Dai E pensare che abbiamo iniziato Alle fogne Un po' prima Anche Abbiamo fatto tantissimo In questo episodio All'orfanotrofia Abbiamo iniziato Verbo E quindi Non ci sono più Rotture di palle Perché adesso Leon Sta ammazzando Mister X E' buono Buono L'abbiamo fatto Buono Bravi noi L'abbiamo fatto Mi sembrava Che stesse Prosvenire Cadere di faccia Ok Signorina Claircroft E' una bambina Non ci sono Manco più genitori Ah allora Bene Perché a me Serve una doccia Sì Davvero Così tanto Già Qualcuno parla di doccia E spunte Leon Te l'ho detto Che ce l'avremmo fatta È vero Lei chi è Manco io lo sapevo Manco io lo sapevo Ciao Ciao Vero Aspetta Sbaglio Tipo Non lo so Io mi aspettavo Che Allora con Leon Avevo visto sta roba Dove ci stavano Per attaccare Sul treno Ma mi aspettavo Che fosse Claire A badarci Con la minigan E basta Invece no Come c'è ancora roba Guardatemi sto finale Basta Indietreggio Inizio a sparare Cioè Porco due Che schifo Vedo degli occhi Però mi pare Quindi sparo a quelli Non so Che cosa dovrei fare Io sparo Esatto Esatto Il piombo Il piombo Che schifo Porca Oddio Non posso uscire Che schifo Brutto schifo Guarda È la sua testa Quella lì Quanti proiettili Ti devo lanciare Oh L'occhio 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 al centro L'occhio al centro L'occhio di Cthulhu Sta uscendo Ah Che schifo Oh L'ultima carica Dell'altra pistola Mi ha salvato Leon Usa il lanciarazzi Che ti ha dato Vada C'avevi altri due proiettili Cos'è sto lag Nell'animazione Che brutto Piate Claire Piate Claire Claire Corri Prima che Leon Stacchi tutto Vai Claire Claire Che figa Guardi Dovevi per forza Fare la cosa figa Alla fine Che è tanto inutile Perché rimarrà in vita Vero Prima che la carrozza Perda velocità Ecco Dammi la mano Ah ma Tutto sta esplodendo Dietro di lui Quindi adesso esplode pure Quel Quel ferro Ferro nell'occhio Non serviva a nulla Ma poi in che fermata Si ferma Nesso sto treno O va all'infinito Va verso Dio Va verso la luce Non mi aspettavo Che tornasse Un'ultima volta Una fermata Ma che cosa No Siamo Ci siamo conosciuti Solo Ieri sera Sì Decisamente La serata Che non ti aspetti Eh Tornate a casa E dite che avete fatto After Forse lui Può darci un passaggio Ma guarda che mo Chissà chi è Qualcuno dell'ombrella E ci ammazza tutti Se si fosse diffuso Resta con Sherry Vieni Io sono della polizia RP Ma guarda Non si ferma E non ci investe RPT Che stronzo Avete appena ascoltato Live and update The grave Ok Non era qualcuno Che ci potesse dare fastidio Immaginate Se era lo stesso guidatore Dell'inizio del gioco Sarebbe stato fantastico Ma quello gli esploso Se fosse altrove Noi ci saremo Ad ogni costo Ok A combattere l'apocalisse Andrà bene Forza Che bella Che bella famiglia Così a caso A caso Zia Appena visto tua madre morire Appena visto tua madre morire Come mi adottate E mi prendete il papallo Sei scema Fuori piano Vuoi suonare E quindi Il vero finale Di Resident Evil 2 Tutto in un episodio Che durerà tantissimo Sto registrando da due ore Sto per morire Collassare a terra Quindi ragazzi Prima che io muoia Spero Vi dico che Spero che questo video Vi sia piaciuto Vediamo Tra l'altro Se c'è un post credit Insomma Salta tutto Salta tutto Non c'è niente I risultati E comunque Credo che non ci sia più nulla Torniamo alla schermata principale Resident Evil 2 E fantastico E ragazzi Spero che la serie Vi sia piaciuta Di Resident Evil 2 Fra un po' Uscirà Resident Evil 4 Quindi Mamma mia Ce lo giochiamo E saremo di nuovo Con Leon Quindi Non lo salutiamo Per troppo tempo Fra un mese Uscirà il nuovo gioco Però In quel mese Ci giocheremo anche Resident Evil 3 E quindi Siamo proprio A post A post E quindi Torneremo comunque A Raccoon City A vedere lo schifo Però Per il resto Noi ci vedremo A Resident Evil 3 E quindi Ciao Ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.